Lorenzo dunque, dopo una lunga impegnativa estate con molti eventi e raccolta di fondi, sei pronto per partire? Sì, salve, siamo pronti per partire domani, mercoledì, con l'auspicio che tutto vada bene. Finalmente si è arrivati ai fatti e non più alle parole, quindi io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me per la raccolta fondi, mi hanno dato una mano dagli artisti, alle persone individuali come Mauro Olivieri e Vigo Gerolamo per avermi dato la possibilità anche di prendere un volo gratuito per Katmandu e adesso arriverò a Katmandu e mi darò molto molto da fare per reperire materiali, tecniche nuove di costruzione antisismica, cose molto interessanti, potete seguirmi su Facebook e quindi speriamo di dare un pochino di sollievo a questa popolazione di alta quota, a 3.800 metri, il nostro Tame, il nostro amato Tame nel Solucumbo. Ricordiamo il progetto della scuola? Progetto della scuola, dove l'anno scorso ero anche andato per dare un piccolo ponticello, la possibilità ai bambini di arrivare alla scuola con un piccolo ponticello, il ponticello è rimasto indenne, ma ahimè la scuola, il giorno 25 aprile e poi dopo il 10 maggio con delle forti scosse caduta per terra, quindi ci sarà molto molto da fare, ma sono felice di avere con me dei volontari che mi daranno una mano e faremo del nostro meglio dove l'aria era rifatta per aiutare queste popolazioni che vivono proprio sulla frontiera dell'estremo vivere umano. Come ha risposto la nostra popolazione a questa gara di solidarietà? Ecco appunto mi trovo qui per ringraziare tutta la popolazione dell'estremo ponente Ligure e non persone individuali, sono state molto molto generose, anche dato dal fatto che hanno risposto molto bene alla causa nepalese. Penso che il Nepal sia un paese in ogni caso molto amato dalle persone, quindi la gente è stata generosissima, quindi ringrazio tutti. Quanto rimarrà giù? Io rimarrò lì all'incirca due mesi e mezzo, con la speranza appunto di poter fare tutto quello che è possibile, ma non solo, è ovvio che bisognerà ritornare occasione dopo occasione per rimettere in sesto queste case, queste scuole che sono crollate per l'80% per terra, quindi ci sarà molto molto da fare. Comunque l'auspicio è che si potrà fare tanto con l'aiuto della popolazione locale e appunto grazie, un'enorme tucce, si dice tucce nel linguaggio scerpa della zona, un'enorme tucce da me e da tutti di Tame e zone limitrofe per la vostra enorme generosità.